E' suonata a Norcia la campanella per circa 200 studenti degli istituti superiori, in anticipo rispetto alle altre parti della regione per consentire l'avvio dei lavori. Dal 1 giugno 2019 di una struttura che sostituirà i moduli perfabbricati in attesa della costruzione del nuovo polo scolastico. La scuola dell'infanzia, la primaria e la secondaria di primo grado inizieranno mercoledì 12.